Era nota per la sua transizione di genere, per i suoi successi olimpici nel Decathlon e per essere padre di due sorelle di Kim Kardashian. Da adesso tuttavia Caitlyn Jenner farà parlare di sé anche il mondo politico dopo l'annuncio di accettare la candidatura dei repubblicani per il posto di governatrice della California. Una competizione anticipata, resasi necessaria dopo che il governatore in carica, Newsom, è stato di fatto sfiduciato. Della fede conservatrice di Jenner, già si sapeva, come noti, erano i suoi stretti rapporti con l'ex presidente Donald Trump, nonostante di quest'ultimo non condivida tutte le posizioni. Secondo molti esperti, la candidata repubblicana punterà su una campagna conservatrice sui temi fiscali e liberal su quelli dei diritti. Secondo molti, giocherà la carta della sua identità sessuale per scavalcare a sinistra i democratici. Secondo molti, giocherà la carta della sua identità sessuale per la 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 sua identità.